È stato un vero piacere per la nostra città ospitare questo straordinario gruppo di ragazzi e siamo grati agli organizzatori e al maestro perché hanno portato qui questo gruppo di ragazzi da tutta Europa. Iesolo per la sua vocazione è da sempre punto di incontro di tanti ragazzi da tutta Europa che avevano a trascorrere le vacanze e questi rappresentano una sintesi eccezionale perché sono di grandissimi musicisti ed è stata per noi un'esperienza bellissima averli qui in preparazione per il loro tour in tutta Italia. L'augurio che ci facciamo è che possano portare un ricordo positivo della città e che possano poi ritornare a Iesolo per esibirsi, per divertirsi d'estate ma anche soprattutto per tornare prossimo anno per preparare i loro prossimi tour. L'augurio che faccio al maestro Igor e a tutti gli artisti è di una carriera brillante che devo dire ci hanno deliziato con una grandissima musica in questi giorni. Di ritorno dalle loro esperienze di Milano e Catania sappiamo che torneranno in Veneto e quindi il 12 novembre avremo la possibilità di poterli ascoltare e ammirare a Portogruaro per cui sicuramente saremo presenti e ci auguriamo che possano veramente trasmetterci la loro armonia che ci hanno già trasmesso in questi giorni. Grazie a tutti.